Il settore edilizio è uno dei maggiori responsabili delle alterazioni ambientali. Da solo è responsabile del 40% delle emissioni di anidride carbonica mondiale, del 36% del consumo energetico globale, di oltre il 50% dell'estrazione delle materie prime e di un terzo del consumo di acqua. Negli ultimi dieci anni il pianeta ha aggiunto circa 50 miliardi di metri quadrati di nuova superficie cementificata. Ciò significa quasi costruire un nuovo Empire State Building ogni 25 minuti o una città grande come Parigi ogni 5 giorni. Per ridurre il consumo di risorse, si rende necessario l'impegno di tutti a livello globale. Cromology, azienda leader in Italia nel settore della produzione e vendita di pitture per l'edilizia, attraverso azioni continue e sistematiche che coinvolgono la fabbrica, i processi e i materiali, all'obiettivo di rendere sempre più sostenibili i propri prodotti. Tutti i siti produttivi e logistici utilizzano il 100% di energia verde, ottenuta cioè da fonti completamente rinnovabili. Cromology adotta standard di certificazione volontaria per la gestione della salute e sicurezza di dipendenti e collaboratori, della tutela del consumatore e della salvaguardia ambientale. Cromology vuole contribuire al raggiungimento dell'obiettivo globale stabilito dalla Commissione europea di azzerare, entro il 2050, l'emissione di anidride carbonica legata agli edifici. Per questo motivo, SETEF, il marchio di cromology specialista della facciata e del cappotto, ha deciso di conseguire la certificazione EPD per i sistemi a cappotto Thermofon. La certificazione EPD, Environmental Product Declaration, è un documento con il quale si dichiarano gli impatti ambientali legati alla produzione di un determinato prodotto o servizio. Molte aziende, anche appartenenti a settori diversi tra loro, hanno intrapreso il percorso della certificazione EPD, poiché consente di analizzare e quantificare energia e risorse naturali utilizzate dai processi produttivi e distributivi. La metodologia utilizzata è l'analisi del ciclo di vita che prende in esame tutte le fasi, l'estrazione delle materie prime, il ciclo di produzione, l'imballaggio, il trasporto, l'utilizzo e lo smaltimento finale. L'EPD è una guida fondamentale per architetti, progettisti ed acquirenti, che consente di scegliere le soluzioni progettuali più sostenibili lungo l'intero arco di vita di un edificio. Attraverso la certificazione EPD, SETEF ha scattato la fotografia dei quattro sistemi di isolamento termico a cappotto Thermofon certificati ETA per misurare l'impatto ambientale di ciascuno di essi. In particolare, in ogni fase, viene valutato l'impatto ambientale per l'isolamento di un metro quadrato con spessore di isolante pari a 100 mm. Thermofon P, Thermofon PV, Thermofon Mineral, Thermofon Natural. SETEF ha avviato un percorso di analisi trasparente volto al miglioramento continuo della sostenibilità dei propri prodotti, a partire dai sistemi di isolamento termico a cappotto. SETEF Thermofon, i sistemi di isolamento all'avanguardia per la facciata concepiti nel rispetto dell'ambiente e delle persone.